terza giornata del torneo super five in questo lunedì sera abbastanza mite che vede affrontarsi gli zappatori contro il bate boriso questi ultimi con il consueto competino con maglietta blu e pantaloncini bianche mentre i zappatori anche loro con lo storico competino ma è adorata pantaloni neri adesso prima il saluto per il grande pubblico il corso fin qui e poi il consueto fair play adesso si deve inizio al tocco vediamo capitano dei zappatori luoghi e ciardiello con i blovi quindi sarà la palla i zappatori ci dobbiamo aprire light ci inizio il primo tempo qui tra bate boriso e zappatori punteggio ancora fermo sullo 0 a 0 ma adesso il bate boriso viene attacco ma buona le troguardi dei zappatori anche che si è un bene che ti inizio non manca a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.